Bene ragazzi carichi come non mai da FizzGamer, oggi ragazzi siamo con Bologna e Napoli Speriamo che domani non ci mangiamo la bolognese Non la voglio la bologna Non mangia dell'ora il ragù Una partita un po' ostica però speriamo di vincerla Avanti Napoli siamo tutti con te Un saluto a Carlo Albino Si comincia si comincia Dai 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 Bravo Ma le palle più avanti Baradà Che gollore Che gollore Che gollore Ma smarcatore L'ha presa Mirko l'ha presa il primo marcatore C'era adesso manca questo esatto aspetta dopo no Mirko ma rendi la tua passione un business Che gollore Che gollore ha fatto Ma no guarda quella testa quella messa Mi sono santo Ma io due secondi prima ho detto quello Eh ma si vedeva poco che era gollore La traiettora Ma che cazzo di gollore ha fatto Ma che cazzo di gollore ha fatto Ma che là dove l'ha messa Sì Sì Il promore a Napoli Oh oh esci 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 Buon lavoro sono sceso Ma che sei un bastardo Ma che c'è un bastardo Ma che c'è un bastardo E' subito contro Adassare Questo è da scuola calcio pro Da Madrid così Tre tocchi Tre tocchi Tre tocchi nella porta Questo è il contropiede contro il Milano Ha fatto un passaggio con Marolo Chi l'ha fatto? Sierischi Mirante Sierischi Ma no ma che palla ci ha dato Vado a primo palo Il primo palo è poco scopertissimo Ma io mi hai chiettato poco questo portiere Oltre l'andata Alla così Marolo Che cosa fai? Che cosa fai? Rigore Perchè rigore? Perchè? Perchè rigore? Che sta dicendo? Perchè rigore? Ha nato o no? Non c'è una paio a me questa Che cosa fai? Ma perchè ha fatto così? Si fa schiacciare la pazza E non è che E' impazzito qua io Dai Reina Quanti ma non parlo un ricorso Dai Reina Dai Reina Dai Reina Dai lo so Lo so Sì 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 Ma che sei ritrovato alla palla Ma l'ho acceso detto Ma è tutto Mi sottarmai Siamo calmati tutti No no che stop che ha fatto? Oddio 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 di immagini si chiama Caillon Prima il palatola Poi il calcio La merza La merza No 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 Mannaggia No 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 Ma perché Ma va a te non giocare Ma va a te Ma va a te Ma va a te E da però Stupiti Stupiti è l'ultimo uomo, ma si crea perché non ti trovo d'accordo con questo? ma perché devi dire queste cose? ma se ne vanno a porto ma questo è scema ma questo è un contrasto ma senti a questi qua ma li va a che sticcare un piacere ma con me, chi lo se ne vanno a porto? se la palla va dritta in porta ma non ti vanno a porto? mannaggia la miseria mannaggia si te la coliste e merda pichino e parto ma perché? ma perché fanno queste cose? dai Mertens dai zittisci tutti zittisci tutti Mertens Sì! 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 Ma che cazzo? Non cambiamo mai troppo non cambiamo mai che la parola lo fa in favore non lo ha a chi si piacere non te lo sento più a chi si e lo fa in favore il Bologna in partita che la la nazione gli ha mandato a porti al Bologna in partita ma senti l'icito ma ronomi si rischi ma ronomi si rischi poi scatta con verte, Marco il Tirevilli Marco il Tirevilli Mirotte 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 che c'è ma di che stiamo parlando si è fatto male il Bologna è in partita il Bologna è in partita come Higuain che c'è come Higuain che domani ne farà finito, devo fischiare finito la prima parte quasi chiusa oh è iniziata iniziata, secondo tempo eccoli qui non c'è lo scherzamento tipo gol ma fa ma non fa male ma reka ma reka sa ma reka ma reka non c'è come signora non c'è come signora non c'è come signora ho fatto pure questo ho visto ho visto la faccia tutta uforica ma reka ma reka ma reka grande ancora sono cinque ragazzi sono cinque cinque mani oh e mani ma com'è ma non mertens che sta combinando giaccheri lascialo lanci prova con il testo BALLAAAAAAA ma guarda è che è il gol 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 così 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 sono sei parola tripletta ragazzi tripletta napolecani non serve fare 6 con al balone ma 2 al palermo BOOM che gol Gesù Gesù GAMESET MATCH cos'è Federer contro Natale la partita 6 a 1 la partita 6 a 1 secondo me il Bologna è ancora in partita si mette a chi invece che è ancora in partita martedì hai detto non trova però alla fine martedì martedì MAZZAVIA SETTE MERTE SETTE MERTE SETTE MERTE SETTE MERTE Bologna è solo uno al palermo finita la partita Napoli strepitoso ottimo Napoli come è già finita ottimo Napoli MAMESETE MAMESETE Bologna era in partita e stava sempre in partita sempre in partita quindi ragazzi ci becchiamo a Napoli generale probabilmente andremo allo stadio sicuramente in curva B quindi noi ci riusciamo al prossimo video 7 7 ci becchiamo tra 7 giorni tra 7 giorni tra 7 giorni e poi c'è un'altra partita che non mi svelo